Cosa farne di un'area di oltre 3.000 metri quadrati dell'ex stabilimento Fatme? Se ne è discusso ieri sera in consiglio comunale a Pagani. Si tratta di uno spazio all'aperto su cui ci sono diverse idee su come utilizzarlo. Un parcheggio, la cui utilità in una zona rurale lascia molti dubbi, oppure un impianto sportivo. Abbiamo tutte le squadrette minori dei giovani che a Pagani praticano il calcio che vanno a San Valentino Torio, vanno a San Marzano, vanno a Corbara, vanno dappertutto. Nei paesi limitrofi non possono farlo a Pagani. Noi abbiamo questa opportunità, tra l'altro una struttura che poteva essere messa anche a disposizione delle attività produttive, perché c'è un momento in cui si può avere una pausa dal lavoro e ci si può distendere anche a fine lavoro. Insomma, era un'opportunità. L'Assemblea ha dovuto mettere mano anche numerosi debiti fuori bilancio. Si tratta di vecchie pendenze, sulle quali l'amministrazione comunale continuava a pagare salati interessi. Questi debiti fuori bilancio sono dei debiti che vengono da una situazione molto vecchia, nate negli anni 80 e negli anni 90, non si è pagato il dovuto a questi imprenditori e che adesso noi dobbiamo sanare questa situazione, perché qui la maggior parte sono interessi che il Comune sta pagando, somme enormi di interessi e io su questi importi abbiamo fatto anche delle transazioni. Devo dire che abbiamo dichiarato una grande pubblica utilità, cioè facendo risparmiare all'ente, quindi ai cittadini, anche ulteriori somme che adesso andiamo a risparmiare su questi debiti. Il Consiglio Comunale ha anche rinnovato la convenzione con la Papa Charlie, l'associazione che si occupa di protezione civile. La delibera rinnova la convenzione siglata per la prima volta nel 2003 e riproposta negli anni, nell'ultima fase anche dalla Commissione straordinaria, con l'obiettivo di garantire il presidio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno del centro operativo comunale ubicato in via Filettine, nonché di prevedere l'impiego dei volontari e dei mezzi in dotazione per tutti gli interventi di emergenza che si possano verificare sul territorio comunale in base ai rischi presenti, naturali quali quello sismico, idraulico, geologico, incendi boschivi, vulcanico, antropici legati a viabilità stradale e ferroviaria, incidenti per industrie a rischio rilevanti, incendi civili, ma soprattutto un'attività di monitoraggio e presidio del territorio. Grazie! 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 Grazie.